Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dai capelli scompisciati Mettiamoli giù così, buona, ok, facciamo il video con i capelli scompisciati Sono usciti i primi spoiler Diciamo che in quelli che erano i primi hint Sono uscite alcune cose vagamente allusive anche al capitolo scorso Una di queste, beh, quella che era inerente a questo capitolo è il 13 perché questo capitolo avrà solo 13 pagine Una inerente secondo me è quella del capitolo scorso Si vede una persona messa in manette Quindi sicuramente è legato al fatto che questa settimana i leaker hanno fatto uscire pochi, pochissimi hint, quasi niente Proprio perché li hanno già arrestati e la polizia li ha già presi e li ha già portati in galera Come diceva il buone e vecchio Maurizio Mosca Li hanno già catturati Proprio per il semplice fatto che la scorsa settimana hanno creato tensione per l'anima del cazzo Ok? Iniziamo a parlare del capitolo di questa settimana Perché è breve, ci sono poche cose Ma potrebbe essere interessante Capitolo 1097 Ginny Non abbiamo idea se ci sia una cover a richiesta o una color spread Ad ogni modo Una cosa importante da dire prima di iniziare a parlare del contenuto del capitolo È che al momento le uniche informazioni che abbiamo su Orso Bartolomeu A parte quelle uscite in questo flashback Sono informazioni frutto di un passaparola E ricordatevi sempre che tutte le informazioni che abbiamo avuto ad Eged Sono informazioni legate al più grande traditore di questo fumetto dopo Crocus Parlo di Gimbe Perché è Gimbe che ci dice che Orso Bartolomeu era stato il sovrano di Sorbet Era stato il tiranno di Sorbet Era stato detronizzato dai cittadini Che da quel momento era diventato un pirata E poi era diventato un membro della flotta dei Sette E poi era diventato un membro della rivoluzione E tutte le varie informazioni Quindi Cosa importante Proprio perché lo sono andato a cercare O meglio Ho chiesto ai ragazzi del gruppo Spoiler Che mi dessero un supporto stamattina E hanno trovato proprio Le pagine Di queste informazioni Quindi Il fatto che Le informazioni che noi sappiamo al momento Sono tutte riportate Quindi non Non fatevi prendere dall'effetto Mandela Convinti che le informazioni Che sappiamo fino adesso Siano accertate Le informazioni accertate Sono quelle che ci vengono mostrate nel flashback Quello che sappiamo fino adesso Sono tutte notizie riportate Questa era una grossa premessa che ci voleva Perché? Perché il capitolo inizia esattamente Nel regno di Sorbet E scopriamo che il sovrano del regno Ha deciso di entrare Dentro al governo mondiale E quindi Come sappiamo bene Per poter partecipare Al regno Al governo mondiale E noi lo sappiamo Proprio perché Orso Bartolomeu È là Ma c'è anche La regina madre Connie Praticamente Praticamente E per entrare Bisogna che paghino Un tributo Con l'oro celeste Ed essendo un tributo forte Un tributo importante Il regno di Sorbet Decide di Il re di Sorbet Decide di dividere Il regno a metà Dove Una metà Fa parte del governo mondiale E quindi Pagherà la tassa Di oro celeste L'altra metà Per abbassare Questa tassa È una zona Completamente In mano Al In mano È buona È buona dalla parte Cattiva È dalla parte Che paga le tasse È dalla parte Dei criminali Ma è sfigatissimo È nella parte Dei criminali Quindi è nella parte Di regno Dove Governano E comanda Il crimine Bene Giunti a questo punto Però Vediamo L'entrata in scena Dei freedom fighters Dei Combattenti Per la libertà Cioè Dragon E Ivankov Che Si sono riuniti Si sono incontrati E hanno formato Quello che è Un nucleo Embrionale Della Della rivoluzione E vanno Proprio Ad attaccare Il regno di Sorbet E ad abbattere Il re Tiranno E a quel punto Kuma E Ginny Entrano Nei freedom fighters Quindi Noi sapevamo Che il tiranno Del regno di Sorbet Era stato abbattuto Dai propri cittadini Quello che in realtà Non sapevamo Aiutati poi Dalla rivoluzione Quello che noi Non sapevamo È che Kuma È una cosa Il sovrano di Sorbet Un'altra Jinbe E probabilmente Il mondo È convinto Che Il sovrano di Sorbet Che è stato Detronizzato Dalla rivoluzione Sia Kuma O meglio Fosse Kuma E in realtà Non è così Sono due persone Distinte Scopriamo Scopriamo Anche Che Dragon In passato Era un membro Della marina E Ha mollato Tutto Dopo aver scoperto Che Purtroppo la marina Non era un baluardo Di giustizia Quindi Sappiamo che la rivoluzione È stata creata Tra i 22 e i 24 anni Prima Della storia attuale Quindi Precedente A quello che è L'incidente di Oara L'evento di Oara Perché noi sappiamo Che a Oara Abbiamo Dragon Che va a parlare Con Vegapunk E Vegapunk Gli fa presente Che i Freedom Fighters Non hanno soldi E quindi per lui Non sarebbe Sensato Seguire I combattenti Per la libertà Ma è meglio Stare sotto il governo Perché il governo C'ha i piccioli Quindi sappiamo Che i Freedom Fighters Sono nati Prima Dell'incidente di Eged E dell'incidente di Di Oara A questo punto Andiamo avanti E anche il tempo Va avanti Perché passano 14 anni No Scusate Passano Passa qualche anno E arriviamo a 14 anni fa Ok E In quel momento Scopriamo Che sia Orso Bartolomeu Che Ginni Quindi sono passati 20 anni 24 anni Dagli eventi Di God Valley Scopriamo Che Orso Bartolomeu E Ginni Erano Comandanti Della Armata Rivoluzionaria Quindi sono entrati Anche loro E Hanno iniziato Comunque A dirigere Bene A questo punto Si chiude il capitolo Si chiude il capitolo Con Dragon Che riceve Riceve L'informazione Che Ginni È stata Rapita E il capitolo Si chiude qua È un capitolo Di 13 pagine La prossima settimana Non c'è pausa Quindi la prossima settimana Il capitolo Esce E Adesso Inizieremo Ad incastrare Le cose Perché Noi sappiamo Che Dragon Conosce Vegapunk Che ha contatti Continui Con Vegapunk E a questo punto Io mi aspetto Che Orso Bartolomeu Vada A cercare Di liberare Ginni Magari in compagnia Di Vankov E Ci potrebbe Succedere Che Kuma Viene catturato E messo a morte Ma Vegapunk Aizzato Supportato Consigliato Da Dragon Chiede al governo Di Salvare la vita Di Orso Ma lui Se lo prenderà Praticamente Sotto le proprie Grinfie Per poter fare Degli esperimenti E quindi Salvargli la pelle E magari Vankov Sparirà Dal mondo E finirà Impel Down Può darsi Che Siano queste Le tempistiche Perché Non vorrei dire Cazzate Ma noi Non sappiamo Quando Vankov Finisce Impel Down Quindi Potrebbero Esserci Anche queste cose Detto questo Ragazzi Detto questo Se vi è piaciuto il video Pollicione verso l'alto Se non vi è piaciuto Pollicione verso il basso Ci sta Mi raccomando Lo metto In fondo Nei vari link E lo trovate anche qua sotto Se volete supportare Questo canale Iscrivetevi Ma vi chiedo anche Di supportare il mio canale Segnali di fumetto Troverete qua sotto In descrizione Il link E troverete Tra i link Finali Uno dei miei video Di là Sul mio canale E il link Proprio del mio canale Se vi va Supportatelo Iscrivetevi Attivate la campanellina Per voi È un piccolo click Per me è un grande aiuto Quindi Conto su di voi Per il resto Ragazzi Io vi saluto E ci vediamo Stasera Su Twitch Per la live Anteprima E domani sera Sempre su Twitch Per la live Spoiler Perché come sempre Cenere È In Blind Ciao belli Eeeh Adesso iniziamo A scoprire qualcosa Vabbè ma che Dragon Fosse nella Nella marina Lo sapevano anche I sassi Anzi Richiamando Richiamando Giovanotti Lo sapevano anche I faffi Eeeh Sì Eeeh Sì E vediamo A questo punto Mi pare E dopo Far vedere Anche Prima o poi Un maledettissimo Flashback Di Dragon Faccelo vedere Dai Yoda Faccelo vedere